A tutti i colleghi, prima cosa, io prima di incominciare a parlare sui codici bianchi volevo un po' raccontare la nostra esperienza qui a nord, noi diciamo ricorderemo e continueremo a ricordare per tutta la vita il 21 febbraio, quella mattina tutti quanti guardavamo le pagine di Sky TG24 che scorrevano nel nostro PS con l'indicazione che Codogno aveva chiuso e in quel momento abbiamo capito che forse poteva arrivare da noi, però nessuno avrebbe mai pensato a questa cosa che da lì a due ore, due, tre ore anche noi chiudevamo il tutto, perché noi come Codogno siamo stati in ospedale chiuso, blindato, militarizzato, i nostri colleghi sono rimasti chiusi per più di 48 ore all'interno del PS, proprio perché noi come ospedale non eravamo ancora attrezzati per portare avanti la gestione dei tamponi, quindi in quei giorni si sentivano le sirene delle ambulanze, ma si aggiungevano anche quelle dei carabinieri che facevano la spola per portare i tamponi dall'ospedale di Schiavonia verso l'ospedale di Padova perché era l'unico attrezzato per i tamponi. Da lì a poco comunque ci siamo dovuti diciamo riorganizzare un attimino come adesso ci stiamo riorganizzando tutti, però come ho sentito pensavo che era in tutta Italia, ma come ho sentito il collega non in tutta Italia riescono a creare il doppio percorso dell'aria pulita e l'aria sporca, quindi il sospetto infetto è quello che può essere non sospetto, quindi con un pre-triage all'ingresso. Noi diciamo che abbiamo vissuto delle giornate un po' dure perché alla fine abbiamo perso l'ospedale di riferimento perché noi oltre a essere un pronto soccorso abbiamo anche il 118, quindi lavoriamo sia all'interno che fuori sul territorio, quindi abbiamo perso il nostro ospedale di riferimento, le nostre ospedalizzazioni si sono allungate tantissimo, sia per una questione anche di distanze ma anche di sicurezza del paziente che comunque da ospedalizzare per un'emergenza erano solo una decina di chilometri, siamo arrivati anche alla cinquantina di chilometri per le ospedalizzazioni, quindi abbiamo vissuto un po' un periodo un po' stressante. Lo stiamo vivendo ancora adesso perché noi non siamo ancora ripartiti come pronto soccorso ma siamo ancora un PP, quindi tutto quello che riguarda la gestione dell'emergenza sul territorio la dobbiamo ospedalizzare negli altri ospedali. Anche nell'organizzazione nei primi giorni, anzi diciamo che noi forse siamo stati fortunati e non come le altre parti d'Italia perché nei primi giorni c'era solo un escalation di preoccupazione della mancanza dei DP, però diciamo che noi non abbiamo mai lavorato senza i nostri DP, anzi i nostri responsabili hanno lavorato tantissimo proprio per gestire questa cosa. Anche un po' di centillinare, abbiamo incominciato a centillinare proprio i nostri DP proprio per questo problema che non si sapeva se è come, se è per caso, era tutto un punto interrogativo ma non sapevamo se veramente riuscivamo a gestire la cosa. Anche i nostri reparti perché noi siamo un ospedale che avevamo di plurispecialistico, adesso siamo diventati un covid center, quindi la nostra ortopedia, la nostra chirurgia, siamo tutti trasformati in un ospedale di malattie infettive, che adesso con il passare dei giorni diciamo si sta gestendo ma stiamo ritornando alla normalità però è ancora presto, siamo ancora tutti quanti dubbiosi della ripartenza perché non sappiamo veramente come andrà e come andrà a finire. Spero che tutto questo che ha portato a questo stasi, spero che porti a una nuova rivisitazione della nostra figura. Io parlo della mia esperienza, nel senso del mio campo dove lavoro e sono proprio nella gestione che ormai noi da anni stiamo chiedendo una nuova gestione degli ambulatori dei codici bianchi a gestione infermieristica con dei protocolli specifici proprio per poter cercare di smaltire tutta quella quantità diciamo di prestazioni che noi come infermieri le potremmo eseguire partendo dall'ingresso fino ad arrivare alla dimissione. Certo senza togliere niente alle figure nostre di riferimento perché noi non dobbiamo diciamo passare al di sopra delle altre figure e quindi della presenza dei medici e degli specialisti. Però ci sono alcune prestazioni che noi potremmo gestire. Posso fare l'esempio per esempio che solo in Toscana è stato avviato il protocollo, siamo passati dai codici colori, siamo passati dal codice numerico e nel codice numerico, nel codice a bassa valutazione c'è anche il see and treat però è solo gestito a livello della Toscana e non a livello delle altre regioni. Noi siamo fortunati abbiamo il fast track quindi riusciamo per lo meno a gestire questi codici bianchi e indirizzarli direttamente dal loro specialista di riferimento. Anche come noi essendo anche centodiciottisti noi chiediamo a gran voce anche una giusta autonomia anche a livello territoriale per poter pure gestire in velocità le emergenze sempre con dei protocolli sempre giusti per la gestione del territorio. Dico anche un'altra cosa che per la gestione dei codici bianchi l'ambulatorio infermieristico può dare una mano anche ad abbassare come ne parlavano i nostri colleghi delle aggressioni verso verso noi infermieri e noi operatori perché non ci siamo solo noi infermieri all'interno dei PS perché alcune volte l'attesa crea un po' di nervosismo al diciamo al paziente. Un'altra cosa anche con tutti questi protocolli è anche applicabili non solo all'interno degli ospedali pubblici ma dare anche spazio con questi protocolli quindi firmati a livello nazionale anche per tutti quei presidi privati che non hanno una gestione pubblica ma sono una gestione privata. Vi ringrazio anche di averci dato questa possibilità di poter parlare e poter dire la nostra in questa giornata. Auguri a tutti. Grazie, grazie.